Altra quota! Altra quota! Santarilli's in the house! La macca oggi con Cristian! Ciao a tutti, oggi a 1600 metri siamo a Courmayeur per la mia prima volta al Super G! È un onore per la prima volta avere ospite al Super G, Cristian Malti! Cristian Malti! Cristian Malti! Cristian Malti! Super G! Super G! Nooo! I wanna hold your body, girl! No! I'm the best! I'm the best! I'm the best! I'm the best! Wooo! We're the best! We're the best! We're the best! Hey! Grazie a tutti! Grazie a Cristian! Ritornerò molto presto come Babba! Ciao Cristian! Ciao! Ciao!